Davide Ponzio, l'attaccante della Costiniana che poteva decidere il derby, invece poi è stato un pareggio. È stato un peccato perché l'antillese è rimasto in nove, non abbiamo saputo sfruttare la superiorità numerica, il rigore che abbiamo creato. È stato un peccato, queste partite poi resta la mare in bocca. Tu sei uscito anzitempo, che è successo? È un contrasto di gioco, una piccola botta e basta, niente di che comunque. Oggi la Costiniana come l'hai visto? Visto che sei rimasto anche fuori un po'. Siamo una squadra giovane, ci manca sicuramente un po' di cattiveria, però io ci credo in questo gruppo. Come ho detto siamo un gruppo di ragazzi, anche fuori dal campo siamo un bel gruppo e quindi penso che possiamo anche dire la nostra. Secondo te che margine di crescita può avere questo squadro? Essendo giovani è grande il margine perché c'è Oliva, Carciotto, sono tutti i ragazzi di giovane da 96-97. E quindi possono crescere abbastanza, soprattutto se ascoltano i più grandi e il mister in primis. E Ponzio perché gioca in seconda categoria o in categoria superiore? Ponzio gioca dove deve giocare, per ora c'è questo e va benissimo così. Ponzio gioca dove deve giocare, per ora c'è questo e va benissimo così.